Oh Pietro, è un sacro di tempo che non ci vediamo, dammi qualche notizia, qualche novità Eh, notizie, novità, che novità, che novità ti posso dare? Non mi far pensare, in famiglia, problemi in famiglia che non si capiscono, non ci vuole pensare Ma sono un amico, confidati no? Confidati, lo vuoi proprio sapere? Ah, certo Lo dico a te proprio perché mi fico A me li devi dirsi fatti Mio cugino, Nicola Sì A Nicola gli piacciono gli uomini A mio cugino gli piacciono gli uomini Ah vabbè dai, può capitare Eh sì, può capitare, no? E può capitare pure a mio fratello Pure a mio fratello doveva capitare A mio fratello più gli piacciono gli uomini Può capitare Cioè capisco che, lo sai, di fronte a... Che sa, che sa, che non ti ho detto niente ancora Mio padre, sangue del mio sangue Me? Pure a mio padre Tu rispiegati Pure a mio padre gli piacciono gli uomini Dì tu, dì Oh madonna Scusa, ma una famiglia tua Sta uno a cui piacciono le donne Ah, vabbè Sì La mia sorella Vado un po' fuori che... E poi ci vi... Fat sentire ogni tanto Eh, ciccio Ciccio, già te ne vai? Sì 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 Sì